Ciao Ivan, mi dai un caffè freddo per favore? Si E quando c'è il caffè freddo? Quattro euro Quanto mi hai dato? Cinque euro E io quanto ti ho dato di resta? Quattro euro E allora quando c'è il caffè freddo? E che ne sono io? A parte A parte A parte A parte